Il microbiota è l'insieme di tutti gli organismi simbiontici di un individuo. Che cosa significa simbiontici? Che fanno parte dell'individuo e coabitano in esso, anzi lo aiutano nelle sue principali funzioni. Ad oggi infatti sappiamo che il microbiota non solo è importantissimo per tantissimi processi fisiologici, ma anche è un aiuto per l'organismo umano o animale a sconfiggere gli antipatogeni.